Sì, era l'ingegner Sanna, scusi. Sì, non essendo un economista sul tema dell'oligopolio non mi esprimo. Devo dire che da utente, cioè da B2B2C, che poi ovviamente è la catena del valore che interessa, è la B2B2C, quella che trasferisce il valore nella catena più lunga e con il ritorno equilibrato. Io se devo fare il gioco della torre, tra l'oligopolio e l'interoperabilità, cioè avere dieci non oligopolisti non interoperabili e due, tre oligopolisti interoperabili, diciamo così. No, io sto facendo il gioco della torre, perché alla fine devo dire, no, per questo io voglio stressare il fatto che secondo me l'interoperabilità è un bene superiore, perché è anche il bene che ti permette poi, qualora si consolidassero de facto degli oligopoli, di avere dei newcomer che sanno con la forza alle spalle come entrare, perché nella storia degli oligopoli c'è la storia che a un certo punto cresce e qualcuno fa la disruption. Se tu hai un'interoperabilità, abiliti la chance di disruption nei mercati. Esatto, questo è un punto di vista ecosistemico, non economista. Grazie.